Novità per i centri vaccinali e il centro di accoglienza degli ucraini all'asle di Pescara. A partire da oggi cessa infatti l'attività del centro vaccinali a Palazzo Fuchsas e del centro di accoglienza ucraini presso la ex stazione di Pescara Porta Nuova. Entrambe le attività verranno infatti svolti a partire da lunedì 2 maggio nella struttura Ex Lidl situata tra via Colle Renazzo e via Tirino. Non solo le vaccinazioni, anche i tamponi per i cittadini ucraini e le dosi per i più piccoli. Struttura allestita in tempo di record che sarà messa a disposizione dei cittadini dalla prossima settimana. L'assessore comunale Eugenio Seccia. Si partirà già da lunedì anche se in realtà siamo già pronti oggi. Ovviamente l'asle ha predisposto tutti i turni di carattere sanitario che ruoteranno intorno a questa struttura di 1350 metri quadri più gli spazi esterni per parcheggi, quindi molto comoda con il doppio accesso da strada Colle Renazzo e da via Tirino. Un ringraziamento, se mi permettete, come già ha detto lei, per la Lidl Italia che ci ha messo a disposizione gratuitamente questi spazi. Un ringraziamento oltre che alla ASL di Pescara va al dirigente Danilo Palestini che praticamente ha coordinato un po' l'attività della protezione civile e della Polizia Municipale di Pescara. Il sindaco ovviamente ha supervisionato tutta l'attività propedeutica a questa apertura che è divenuta molto importante purtroppo visto la ricrudescenza del virus. L'attività di somministrazione di vaccini sarà il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13. Ovviamente la valutazione è sulla base dell'utenza attuale che si aggira intorno alle 200 unità e sarà possibile eventualmente incrementare anche dalle 3 a 4 linee che sono previste per le somministrazioni di vaccini e nell'eventualità dovesse aumentare questa utenza. Nella parte iniziale hanno realizzato insieme alla ASL, la protezione civile e vigili urbani una parte destinata all'accoglienza di quelli che potrebbero essere nuovi arrivi degli ucraini per effettuare tutte le attività di tamponi e verifiche di carattere giudiziario e quindi una ottimizzazione del lavoro da parte di sanitari, operatori di polizia giudiziaria, della protezione civile e dei vigili urbani. Questo permetterà un efficientamento in vista della stagione estiva dove anche nello scorso anno c'è una diminuzione delle disponibilità soprattutto di volontari. In questo modo abbiamo ottenuto una struttura efficiente in grado di poter sopperire alle carenze di un settore, di una linea destinata non solo ai tamponi piuttosto che ai vaccini scambiando quelle che sono i personali. In questo modo manteniamo alto il livello di efficienza e di risposta per chi volesse in qualche modo vaccinarsi. Grazie. 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 Grazie.